Shalom a tutti, Shabbat Shalom, mi fa piacere di rivedervi dopo tanto tempo in buona salute. Ci accidiamo ad accogliere lo Shabbat della Parashah di Be'alotechà, che è ormai il secondo Shabbat dopo Shavuot, e già la scorsa settimana ho dedicato una parte della lezione a una She'elah di stagione, diciamo così, una She'elah estiva, ci siamo occupati della Be'alotechà di Shereyano sui frutti nuovi. Oggi rispondo ad un altro quesito che mi è stato posto. È permesso di Shabbat stare seduti sotto l'ombrellone? Non mi riferisco in particolare alla spiaggia sulla quale ci sono anche altre controindicazioni di Shabbat, mi riferisco a una persona che abbia l'ombrellone nel giardino, nel cortile, sul terrazzo, quello che è, e dato che siamo alle prese già con giornate molto calde, si fa per dire, può essere piacevole stendersi sotto l'ombrellone in maniera di evitare un colpo di sole. Si può fare ciò di Shabbat oppure no? Qual è il problema? Lo vediamo subito. Di Shabbat ci sono 39 categorie di lavori proibiti, uno di questi è Bonet, il divieto di costruire, di intraprendere una costruzione. Il Ben Ischai scrive a questo proposito, Nel divieto della Torah di costruire, è compreso anche il divieto di montare una tenda stabile. E quindi i chachamim hanno stabilito che è proibito erigere o montare una tenda sia di Shabbat che di Iom Tov. Cosa si intende per tenda? Si intende una tettoia che ci fa da riparo e ci protegge dal sole o dalla pioggia a seconda delle stragioni o da qualsiasi altra cosa. Non solo. Abbiamo parlato di una tenda stabile. Aggiunge il Ben Ischai Il divieto comprende anche una tenda provvisoria. Cosa si intende per tenda provvisoria? Una tenda che non è destinata a durare nel tempo, ma soltanto al momento, soltanto per un periodo di tempo estremamente limitato. Questa è una definizione di O-Ela-Rai, di tenda provvisoria. L'altra è L'altra definizione riguarda invece non il tempo, bensì il tipo di montaggio. È proibita anche se si tratta di una tenda che non è sostenuta da pareti, ma è semplicemente un telo posto sopra quattro pali. Nonostante questo, anche se si tratta dunque di una tenda provvisoria, dal momento che serve da riparo, è considerata tenda a tutti gli effetti ed è proibita dai Chachamim come estensione di una tenda fissa che invece è proibita direttamente dalla Torah. Cosa dire a questo punto dell'ombrello? Klische Korimbe Arabi Shamsai, prosegue il Ben Ischai su quest'altro argomento, quel tipo di oggetto che in arabo è chiamato Shamsai, da Shams che in arabo significa sole, in ebraico Shemesh, uv italki imbrella, e in italiano è chiamato ombrello, interessante che il Ben Ischai usa qui la parola italiana, che è fatto per proteggere appunto dal sole o dalla pioggia, non mi baia di assur le fotcha le ha ilba, e la filo petucha ve omedet mi be'odium assurla se totale le ha ilba al rosso, ben be' Shabbat, ben be'yontò. Non soltanto è proibito aprirla dal momento che si crea una tenda, ma anche se è già aperta fin dal venerdì, noi non possiamo sollevarla, non possiamo prenderla in mano, perché ci faccia da tenda sopra la nostra testa, sia che si tratti di Shabbat, sia che si tratta di Yom Tov. E aggiunge ancora un'email a te da, dal momento che non possiamo mettercela sopra la testa, trasportarla sopra la nostra testa, è proibito comunque, anche da chiusa, trasportarla da un posto all'altro, anche all'interno della casa, per esempio per riporla in un armadio di Shabbat o di Yom Tov, perché è considerato questo oggetto Mucze. Riassumendo, fin qui la lettura del testo, riassumendo che cosa ci dice, che l'ombrello non è da meno di un Oelarai, non è da meno di una tenda provvisoria, e su questo la fonte fondamentale che il Ben Shkai stesso cita, è un risponso del Nodabi Yudah, Rabbi Yehezkel Landau, vissuto a Praga e morto nel 1793, già allora si usavano gli ombrelli evidentemente, nel risponso numero 30 della seconda edizione della sua raccolta, dedica un lungo testo proprio a questo argomento, e arriva alla conclusione che secondo l'Alaqa, appunto, benché l'ombrello non abbia pareti, benché l'ombrello soprattutto non abbia un appoggio per terra, è considerato comunque un Oelarai, è considerato comunque quantomeno una tenda provvisoria, e rientra nel divieto della tenda provvisoria. E questo comporta che è proibito ad operare, lo abbiamo detto, sia di Shabbat che di Yom Tov, molti pensano che il divieto dell'ombrello sia legato al fatto che lo si trasporta per strada, e quindi credono che sia permesso di Yom Tov, allorché siamo autorizzati a trasportare oggetti utili per la strada. E invece no, il problema dell'ombrello non è soltanto il trasporto che è proibito di Shabbat e non di Yom Tov, ma il problema è costituito dal fatto che è considerato a tutti gli effetti una tenda, e siccome è considerato un oggetto inutile, ecco che rientra nel divieto del Muqtzeh. Cos'è il Muqtzeh? Il Muqtzeh è un divieto rabbinico, è uno di quei famosi Seyagim, a cui si accenna nella prima Mishnadi Pirke Avot, allorché ci viene detto va a Susyag la Torah, e fate una siepe intorno alla Torah. Ebbene, la Torah proibisce di costruire una tenda di Shabbat e di Yom Tov, a questo punto arrivano i Chachamim e ci dicono quello che è lo strumento di un'azione proibita non può neppure essere maneggiato, e quindi ne deriva che l'ombrello non può essere maneggiato né di Shabbat né di Yom Tov, né una volta aperto e neanche da chiuso per riporlo nell'armadio, come dicevo prima. Non può essere preso in mano. A questo punto la domanda che si pone è la seguente. Se io non prendo in mano l'ombrello, ce l'ho già aperto da prima della festa, posso io mettermi ci sotto? Per esempio, se l'ombrello, il parapioggia, è sostenuto invece che da me stesso, da un piedistallo, per cui io non ho la necessità di prenderlo in mano. Questo, anche su questo, risponde il Nodabi Uda, risponde il Rabbi Yechez Kellandau, e dice che anche questo è proibito. Per quale motivo? Per un altro divieto rabbinico, che tutti noi conosciamo, ed è il divieto di Maritain, il divieto di apparire come se avessimo compiuto un'azione proibita. È vero che non abbiamo aperto l'ombrello di Shabbat, e l'ombrello è già aperto da prima. È vero che non lo maneggiamo, e quindi non incorriamo del divieto di maneggiare l'oggetto Mucce, come spiegavo prima, però esiste ancora un problema. Dato che il parapioggia normalmente viene aperto subito prima dell'uso, e non viene lasciato successivamente aperto, viene richiuso appena non ne abbiamo più bisogno. Questo è l'uso del parapioggia. Ecco che, anche se avessimo aperto l'ombrello prima di Shabbat o di Yom Tov, e non lo maneggiamo, ci mettiamo sotto un parapioggia sostenuto semplicemente da un piedistallo, comunque incorriamo nel divieto rabbinico di Maritain. Perché? Perché chi ci vede dice, ah, quel signore ha aperto l'ombrello in quel momento. Perché così siamo soliti fare con il parapioggia. Fin qui per quanto riguarda il parapioggia. Ma per quanto riguarda invece l'ombrellone parasole, si può ragionare in modo diverso. Sappiamo infatti che gli ombrelli parasole, gli ombrelloni, stanno aperti molto più a lungo di quello che è l'uso che la persona ne fa. Normalmente vengono lasciati aperti, anche quando non ne abbiamo più bisogno, a differenza di quanto facciamo con il parapioggia, con l'ombrello normale che ci serve per la pioggia. E quindi, ragionando in questi termini, potremmo dire che l'ombrellone che è appoggiato ad un piedistallo per terra nel nostro giardino ed è aperto, noi possiamo tranquillamente sederci sotto l'ombrellone, perché nel caso del parasole non si parte dal presupposto che la maggior parte delle persone lo apra soltanto nel momento in cui comincia ad usarlo. Può essere benissimo stato aperto da prima. E quindi possiamo concludere che possiamo adoperare il parasole, l'ombrellone di Shabbat o di Yom Tov e di sederci sotto a due condizioni. La prima è che sia rimasto ininterrottamente aperto fin da prima che la festa cominciasse. E cioè che durante il venerdì notte nessuno lo abbia chiuso, evidentemente. La seconda condizione è che sia sistemato su un piedistallo per cui noi non lo maneggiamo, non lo prendiamo in mano e quindi ne consegue che se di Shabbat ci venisse in mente di spostarlo, per esempio, perché il Sole a sua volta ha preso un'altra direzione, questa azione non è consentita. Possiamo quindi sederci sotto il parasole, l'ombrellone di Shabbat, ripeto, riassumendo, a condizione che sia stato aperto ininterrottamente fin da prima di Shabbat e che noi non lo maneggiamo e non lo spostiamo per nessun motivo, che sia appoggiato al terreno e lì rimane. Fin qui la questione di Allah che volevo trattare con voi e passiamo adesso ad un commento della parasha della settimana. La parasha di Be'alotechà è una parasha ricchissima. Mi soffermo sulla seconda parte della parasha che comincia a raccontare delle ribellioni del popolo ebraico nel deserto. È una serie di argomenti di grandissimo interesse, naturalmente, che hanno suscitato altro che la curiosità di tutti i nostri commentatori. Di che cosa ci parla la parasha di domani mattina? Ci parla di una richiesta di cibo, apparentemente. E cioè, il testo ci dice che la ribellione è partita? Mi riferisco a Bemidbar, capitolo 11, verso 4. Secondo l'interpretazione tradizionale che anche Rashida, il Asafsuf, la cozzaglia che suscitò la ribellione, era il Erevrav. Era un gruppo di egiziani che si era uniti, unito al popolo ebraico nell'uscita dall'Egitto per motivi suoi, probabilmente perché erano dei dissidenti nel confronto del regime del faraone e si erano uniti al popolo ebraico in questo moto di ribellione senza sapere in realtà a che cosa andavano incontro. Cosa fecero questi signori? La Torah dice che ebbero un grande desiderio materiale, una grande concupiscenza, come si dice, e trascinavano poi nella ribellione anche i figli di Israele che si misero a piangere, Vayomeru Miya Achilenu Basar e dissero chi ci darà da mangiare della carne? Zachanu e Tardaga Asherno Chalbe Mitzraim Hinnam ci ricordiamo, dissero del pesce che in Egitto si mangiava gratis, le zucchine, i cocomeri, il porro, le cipolle, l'aglio, eccetera, eccetera, e adesso non ci resta da mangiare nel deserto altro che la manna. qual è il significato di questa ribellione? Il significato piano evidentemente era che la manna li aveva stufati. La manna per la verità dice il Talmud poteva assumere tutti i gusti che la persona preferiva ad eccezione dei gusti più forti di cui questi signori in questo momento lamentano proprio la mancanza e cioè la cipolla, l'aglio, il porro e altri. La Gemara spiega che per salvaguardia dei bebè e delle donne che li allattano la manna non assumeva questi sapori per evitare che il bambino rigettasse il latte che non gli piaceva e che morisse di fame sostanzialmente allora il latte artificiale non c'era e quindi il problema sussisteva nella sua intierezza. Questo è il significato più piano evidentemente della vicenda però basta dare un'occhiata a qualche altro versetto qui nel contesto per renderci conto che probabilmente c'era qualche cosa di più e che il cibo forse era soltanto una scusa. Per esempio poco dopo è scritto Moshe udì il popolo che piangeva diviso per famiglie. Ora mi spiegate voi che cosa c'entra la divisione per famiglie con il cibo che è un'esigenza individuale tanto più se si tratta di gusti ognuno ha i suoi gusti cosa c'entrano qui le famiglie ed in effetti Rashi pesce che in Egitto si mangiava gratis ebbene nel Talmud sempre in Yoma si discute se il pesce va inteso qui alla lettera come cibo o non vada inteso invece come l'eufemismo per qualche cosa di diverso. E nel Talmud si avanza l'ipotesi che la ribellione qui non fosse legata all'alimentazione bensì fosse legata alla disciplina della sessualità sostanzialmente che queste persone provenienti dalla cultura egiziana facevano facevano fatica fatica ad accettare che cosa? Beh le arayot le unioni proibite che evidentemente erano decisamente in contrasto con la cultura egiziana se noi andiamo a vedere proprio il capitolo della Parashah di Ahanemot che leggiamo nella Torah il pomeriggio di Yom Kippur dove si parla proprio di questo argomento esso è introdotto con l'espressione che ma se Eretz Mitzray Masherj e Shartenball o Tassu non farete come si faceva in Egitto dove avete risieduto l'Egitto è risaputo come una terra di grande immoralità sostanzialmente la domanda a questo punto è per quale motivo questi signori trascinando dietro di sé tutto il popolo si mettono a protestare su questo argomento proprio in questo momento tutto sommato è passato un anno dal Ma'amad al Sinai dalla rivelazione sul monte Sinai dove era stato detto fra gli altri comandamenti lot in half non commettere adulterio per quale motivo soltanto dopo un anno da allora si svegliano a protestare su questo tema e la risposta viene data dal Kliyakar il quale nota che questo capitolo undici che parla della ribellione è preceduto immediatamente prima dall'ultimo versetto del capitolo dieci che tutti noi conosciamo perché è inserito nel Sidura inserito nella Tefillah sono due versetti uno dice Prima viene detto quello che Moshe soleva dire tutte le volte che l'arca partiva ed è l'espressione che noi recitiamo nel Beta Knesset quando tiriamo fuori il Sefer Torah dalla Guna Kodesh che sostituisce l'arca e poi è detto che quando l'arca si posava Moshe diceva torna a Shem insieme alle migliaia di Israele c'è qui un riferimento ad un numero dato di persone e il Midrash elabora questo versetto partendo dal presupposto che il minimo del plurale è due e abbiamo qui un plurale della parola miriadi è un plurale della parola migliaia in tutto quindi 22.000 se noi consideriamo il minimo del plurale come due il Midrash dice che da qui si impara che la Shekinah la presenza divina rappresentata dall'arca si posa su Israele solo a condizione che noi siamo almeno 22.000 individui che cosa implica tutto questo che chiunque dei nostri figli potenziali potrebbe in ogni momento essere il numero 22.000 del popolo ebraico se noi fossimo solo 21.999 non avremmo diritto la Shekinah cosa significa che dobbiamo metterci a procreare che dobbiamo darci da fare per avere figli e non ostacolare appunto l'adempimento di questa mitzvah a questo punto comprendiamo lo stato d'animo delle Erevra di questi egiziani un anno fa ci è stato detto che le unioni sessuali hanno dei forti limiti va bene siamo capitati in un popolo di monaci non era la nostra cultura di origine pazienza a condizione però che si sia coerenti perché in questo momento ci viene invece detto che dobbiamo procreare questo era il problema delle Erevra la cultura non ebraica spesso e volentieri accetta l'idea che o si è monaci o si è dissoluti i monaci hanno una loro disciplina e va bene a condizione naturalmente che gli altri possano fare tutto quello che vogliono quello che risultava incomprensibile a queste persone era come mai le due esigenze presso il popolo ebraico vengono insieme non capivano come da un lato ci fosse una limitazione molto forte alla vita sessuale dall'altro questa non sconfida nella castità e nell'ascetismo ma al contrario persino nell'obbligo di mettere al mondo figli questa è la disciplina del popolo ebraico di come dice il rambam nell'ishmona per hakim che cita proprio fra gli altri questo passo è un esempio della medietas dello shvila zahar della via di mezzo che caratterizza l'etica ebraica noi non siamo né monaci né dissoluti siamo qualcosa che passa a metà strada fra questi due estremi questo era decisamente più difficile da comprendere da comprendere per queste persone perché perché lo scopo del popolo ebraico è di elevare ciò che è materiale non di reprimere o di rinunciare a ciò che viene appunto dal fisico ma al contrario di elevarlo a un livello superiore attraverso la chedushah attraverso la spiritualità questa è sostanzialmente l'interpretazione del Kliakav è molto interessante ci lascia ci fa riflettere naturalmente ma voglio rincarare per così dire la dose e andare oltre l'interpretazione cabalistica del Rav Kuk Rav Kuk è stato uno dei più grandi maestri del novecento e a questo proposito nei suoi scritti ha lasciato delle considerazioni estremamente interessanti anche lui parte dal presupposto che l'alimentazione è soltanto un simbolo un simbolo molto più vasto nel linguaggio della cabalà l'alimentazione non è soltanto il godere del cibo e il nutrirsi di esso dal punto di vista fisico il fatto di masticare il cibo e di deglutirlo costituisce nel linguaggio della cabalà purché ovviamente lo si faccia con i dovuti propositi che non sono quello della capula ma sono quello del pensiero spirituale che può andare anche al cibo quello di elevare dal cibo le sue nizzozzot di chedusha le sue scintille di santità separandole dalle clipot separandole dal dal residuo separandole dalle scorie essenzialmente e quindi ripeto se effettuata con chedusha l'alimentazione può rispondere ad un proposito sacro di grandissimo livello questo fa parte del linguaggio cabalistico e questo ci permette di comprendere come in realtà il cibo l'alimentazione oltre alla sessualità purché le si viva evidentemente in un modo particolare non sono da condannare ma sono viceversa da considerare una fonte di elevazione benissimo il Rav Kook partendo sempre dallo Zohar dice che nella visione ebraica del mondo in realtà ci sono tutte e due le forme di chedusha c'è la chedusha celeste e la chedusha terrestre per chedusha celeste si intende una elevazione che viene dall'alto che viene da Kadosh Baruch Hu ed è una elevazione come potete immaginare completamente separata da qualsiasi contesto materiale d'altronde c'è un altro tipo di chedusha che consiste proprio nella santificazione delle cose terrene la chedusha terrestre sono due forme di chedusha Rav Kook spiega che il popolo ebraico nel deserto che si fece influenzare qui dalle Erev Rav era avvezzo soltanto al tipo più alto di chedusha e in questo modo viene addirittura giustificato la sua ribellione viene spiegata in un'ottica completamente diversa da quella alla quale siamo abituati questi signori mi riferisco qui non più all'Erev Rav ovviamente ma agli ebrei stessi che hanno aderito alla ribellione perché lo hanno fatto perché erano avvezzi ad un tipo di chedusha superiore di tipo celeste erano coloro che mangiavano la manna e la manna è il cibo celeste non dimentichiamoci è un cibo che non lasciava scorie cosa succede a questo punto che questo popolo desidera la carne desidera un cibo materiale che lascia scorie desiderano un cibo terreno e in quanto tale aderiscono alla alla ribellione volevano cioè elaborare arrivare ad elaborare una forma di chedusha che non partiva dal cielo ma partiva dalle cose materiali partiva dalla terra ma Moshe Rabbenu di fronte alla richiesta della carne che cosa fa risponde Moshe Rabbenu dice da dove vado a prendere tutta la carne di cui ho bisogno per sfamare questo popolo e Kadosh Baruch Hu gli risponde prontamente Vuoi limitare le possibilità di Kadosh Baruch Hu di cosa ti preoccupi questo è un problema mio non è un problema tuo resta a questo punto da giustificare l'atteggiamento di Moshe in questo frangente e Rav Kuk sempre secondo la Kabbalah nella stessa logica spiega che Moshe Rabbenu sapeva che quella generazione non era in grado di elaborare la Kedushah dalla terra era una generazione troppo elevata per questo abituata ad un cibo celeste abituata ad una Kedushah che proviene dall'alto lui stesso si lega a questa generazione pur avendo certamente tutte le capacità di questa terra a livello personale ma si lega a questa generazione e che cosa fa dice a Kadosh Baruch Hu Uccidimi mettimi da parte che cosa era in gioco in quel momento era in gioco il prossimo ingresso in Eretz Israel per poter entrare in Eretz Israel è noto che bisogna avere a che fare con la terra cioè bisogna sapere elaborare un tipo di Kedushah diverso da quello a cui gli uomini del deserto erano abituati e Moshe Rameno stesso si rende conto che è troppo legata a quella generazione per poter far fare loro questo salto di cui non erano certamente capaci a questo punto ci è chiaro il seguito del racconto della Torah secondo il Midrash Moshe Rabenu chiede aiuto Kadosh Baruch Hu gli mette a disposizione la possibilità di nominarsi 70 uomini che cosa fa Moshe Rabenu nomina i 70 uomini che gli faranno i 70 anziani che gli faranno da aiutanti prende 6 uomini per le 12 tribù fanno 72 in tutto due di essi vengono scartati mediante un si può dire un voto nullo essenzialmente e queste due persone che sono Eldad e Medad si mettono a profetizzare nell'accampamento e che cosa dicono nella loro profezia Moshe sta per morire e Yerushua sarà colui che ci porta in Eretz Israel Yerushua si arrabbia e dice Adonimo Shekelaem come si permettono a questi signori di mancare di rispetto al nostro grande maestro Moshe Rabenu lo calma e gli dice magari tutti fossero nel nostro popolo profetico come costono quello che conta qui è il contenuto della profezia il contenuto della profezia è legato proprio all'argomento che stiamo sviluppando la successione di Moshe chi avrebbe potuto portare il popolo ebraico in Eretz Israel soltanto Yerushua insieme a Kalev fu l'unico dei futuri esploratori a parlare bene della terra ma soprattutto spiega in Rav Kuk c'è un'altra questione a monte la Kedusha celeste era simboleggiata da Lea mentre la Kedusha terrestre è simboleggiata da Rachel le due madri del grande patriarca Iaco non entro adesso nei dettagli mi limito soltanto a dire che Moshe era un discendente di Lea in quanto appartenente alla tribù di Levi mentre Joshua era appartenente alla tribù di Efraim che era figlio di Yosef il quale era figlio a sua volta di Rachel ecco perché Moshe Rabbeinu non avrebbe potuto portare quella generazione in Eretz Israel questo compito sarebbe stato affidato a Yerushua discendente di Yosef discendente di Rachel colei che simboleggia la Kedusha della terra e Yerushua avrebbe portato a termine questo compito soltanto con la generazione successiva e a questo punto concludo accennando ai due episodi successivi uno alla fine della parasha di questa settimana e l'altro che caratterizzerà la parasha della prossima settimana alla fine della parasha di questa settimana si racconta del fatto che Aaron e Miriam avrebbero parlato male di Moshe Rabbeinu per via della moglie che aveva preso il Midrash spiega che in realtà la lezione non era sul matrimonio di Moshe ma al contrario sul suo divorzio Moshe Rabbeinu diceva aveva lasciato si porà la donna che aveva sposato per quale motivo? perché Moshe Rabbeinu apparteneva alla generazione di coloro che interpretano la chidusha solo come un fatto celeste e non come un fatto terrestre per questo motivo si era assunto una sorta di impegno di celibato ad un certo punto della sua vita e questo aveva suscitato diciamo così dei dissapori anche all'interno della sua stessa famiglia nei suoi confronti capiamo a questo punto qual è la logica che lega fra loro questi avvenimenti Moshe Rabbeinu appartiene alla sua volta alla generazione del deserto che è interamente legata al cielo e non e non alla terra ma comprendiamo anche una spiegazione che viene data a proposito dell'episodio degli esploratori di cui leggeremo con dovizia di particolari la prossima settimana gli esploratori 10 contro 2 tornano con un reportage assolutamente negativo sulla terra di Israele cosa era andato storto cosa non avevano capito conosciamo la spiegazione di Rav Solovejic mandati in esplorazione avevano ricercato tutti i possibili dettagli perdendo di vista il significato complessivo della terra di Israele perché il nostro rapporto con la terra di Israele di nuovo è come il rapporto con la sposa quando noi ci sposiamo non conosciamo della controparte tutti i particolari non conosciamo tutti gli aspetti del suo carattere noi la scegliamo perché perché ci sembra che sia Bihlala globalmente parlando la persona adatta a noi è ciò che gli esploratori non avevano saputo fare riguardo alla terra non avevano capito che quella terra era una terra di Segullah era una terra che rappresentava il possesso particolare del popolo di Israele non avevano colto questo aspetto che rimanda di nuovo al discorso sul matrimonio e sulla sessualità di cui abbiamo parlato prima perché non l'avevano fatto di nuovo perché erano una generazione legata al cielo e non alla terra erano legati a una spiritualità superiore di tipo celeste e non non potevano capire come in realtà in questo momento sarebbe stato necessario a dire al secondo tipo di Kedushah cioè alla Kedushah che si estrapola dal mondo materiale dal mondo fisico e dalla stessa terra ecco quindi che il discorso si conclude in se stesso essenzialmente è un discorso coerente in se stesso si doveva passare da una generazione che vedeva nella Kedushah un prodotto celeste a una nuova generazione che vedeva nella Kedushah un prodotto terrestre solo in questo modo si poteva prendere possesso della terra di Israele secondo tutti i principi che Kadosh Baruch Hu ha fissato per noi vi ringrazio molto della vostra attenzione e a Dio piacendo ci vediamo di nuovo venerdì prossimo alle 16 con un ulteriore commento su questa parashah e anche un ulteriore risponso naturalmente sulle questioni di Alaka Estiva Grazie Shabbat Shalom a tutti Shabbat Shalom Shalom Grazie a tutti Grazie a tutti